Allora amici, vi ricordate quando vi ho detto che stavo aspettando delle cose qua per la mia scrivania che sto rifacendo in stile, diciamo, Danish pastel? Ecco, è arrivata una nuova cosa ad Aliexpress, quindi mi andava di aprirla con voi perché i video spacchettamento Aliexpress vi piacciono un sacco e so che adorerete letteralmente quello che c'è qui dentro, quindi direi di prendere la nuvoletta e aprire. Ma cosa sarà mai? Ebbene sì, sono dei sottobicchieri in tessuto, veramente troppo carini, cioè più Danish pastel di questo si muore, questo è uno, ne ho presi tre. In assoluto questo è il mio preferito, guardatelo, oh mio Dio, lo amo! Io infissa letteralmente con questo emoji, con questo personaggio, con smiley in generale. E come ultimo abbiamo questo qui, che in realtà è molto semplice perché è tipo a scacchi rosa e bianchi, diciamo. E servono a mettere le tazze bollenti con il latte caldo appunto appoggiati sopra la scrivania, ma quanto sono belli! Fatemi sapere assolutamente nei commenti qual è il vostro preferito e ditemi se non sono perfetti per lo stile che sta prendendo la mia scrivania. Li amo, li amo follemente!